Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Age of FIFA. Purtroppo questo non è un video di carriera, non è un video di gameplay, non è un video in cui faccio qualcosa, semplicemente un video in cui parlo perché è successo una cosa grave. Ieri mentre stavo cercando di caricare una goal compilation nel confronto tra la realtà e la mia giocabilità di FIFA, comunque un video che vi avrei voluto mostrare in anteprima di FIFA 15 sul mio canale, sono stato bloccato dal copyright che mi ha limitato il minutaggio a video di 9 minuti, restringendomi, cioè nel senso allungandomi i tempi di caricamento sul canale Age of FIFA e destabilizzando le immagini quindi non rendendole più HD. Per questo io ho deciso, siccome queste troppe limitazioni non mi permettono di fare quello che voglio, di cambiare canale, quindi vi annuncio che questo sarà l'ultimo video del canale di Age of FIFA. Tranquilli, non sparisco, ma appaio su un canale nuovo che si chiamerà FIFA TV, in descrizione c'è il link, da dove si ripartirà con FIFA 15 e tutti i suoi aggiornamenti. Mi dispiace per chi seguiva questo canale, però raccomando a quelli che magari erano iscritti di annullare l'iscrizione di qui e farla di là, perché è più, cioè, mi sembra cosa giusta, ma comunque questo canale non verrà chiuso per chi vuole rivisitare le cose precedenti. Quindi, niente, avviso per chi così era affezionato a questo canale che si dovrà affezionare a quello nuovo. Ciao a tutti e ci vediamo, quindi su FIFA TV, la prossima stagione di FIFA 15. Ciao a tutti ragazzi!